N.Y.Factory Ancora non si è capito molto il destino che ci dovrà essere appunto nella mappa prima della season 6 ma soprattutto magari poi nelle prossime settimane scopriremo sicuramente di più perché vi ricordo che è rimasta questa settimana poi ce ne sarà un'altra ancora e poi ci sarà direttamente la season 6 quindi effettivamente ancora potremo scoprire molte molte cose. Però per quello che riguarda oggi quindi uscita proprio patch 15.50 sappiamo queste informazioni adesso ovviamente ve le vado a dire tutte quante. Allora la prima cosa appunto abbiamo tutti i leaks della patch appunto di questa nuova patch tra l'altro lo stile oggi ho preso di lei che io già ce l'avevo questa skin è veramente carino questo stile da usare in gioco veramente bello hanno messo la skin maschile della cacciatrice di livello 25 se non sbaglio non mi ricordo come si chiama. Ma onestamente hanno messo anche molte mimetiche e al solito molte cose ma sapete che il lato estetico importa poco nei miei video onestamente poi questo qua tutto il lato shop tutte le skin che hanno ottenuto un aggiornamento del design dello shop. Come potete vedere ci sono anche molte skin di San Patrizio perché appunto sapete che si avvicina San Patrizio tutti i fiori verdi cioè tutte le foglie verdi e sapete appunto che in America specialmente cioè noi in America scusate nel Regno Unito si festeggia particolarmente quindi che probabilmente ci saranno a breve. Andiamo invece poi avanti non parlando più di leaks abbiamo le sfide di Mida Femmina che si chiama Mary Gold che a quanto pare ha un pacchetto sfide che comprendono 100, 200, 300, 400 e 500 V-Bucks. Sappiate che una volta completate queste sfide avrete 100 V-Bucks poi la prossima ancora 200 V-Bucks quindi arriverete a 300 V-Bucks a 300 arriverete a 600, 400, 500 e così via. Quindi sappiate che non è che c'è insomma delle va a sommare ecco magari c'è gente che capisce male e arriva solo a 500 V-Bucks invece no sono 100 più 200 più 300 più 400 quindi si fanno a sommare non sono a 100 a 100 a 100 ok. Comunque abbiamo poi una schermata di caricamento che è stata trovata nel file di gioco all'inizio della patch e devo dire che questa schermata di caricamento ci dovrebbe essere molte teorie perché è molto 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 significativa. Perché appunto la vediamo in fondo il boost da battaglia e questa specie di sfere che fa cadere questa pioggia di meteore e non lo so adesso di fulmini sembrano più meteore e palle di fuoco più che fulmini però ovviamente si può interpretare come si vuole queste immagini. Ricordo un pochettino l'evento della season 3 no se ci fate caso appunto abbiamo anche la skin Lord X oppure non mi ricordo come si chiama quella originale originale che fa parte della season 3. Season 3 season in cui sono accaduti alcuni meteoriti per poi dare origine alla season 4 dove c'erano tutte le robe distrutte dai meteoriti insomma no? Ed è molto significativo potrebbe essere ricollegata a qualche evento finale anche se credo di no dato che in questa season c'è il punto 0 quindi credo proprio di no però comunque non magari mettiamole in evidenza per poi magari poi scartarle. Andiamo invece a vedere il punto 0 come è cambiato oggi ragazzi dopo la 15.50 dopo che i server sono andati online abbiamo trovato il punto 0 completamente diverso si sta destabilizzando come già avevamo detto nel video di ieri col fatto del magazzino no? Ehm veramente super stabilizzato adesso fa queste queste onde che sono veramente fighe ci sta e poi tra l'altro è più spaccato nel senso presenta più come dire venature ecco non saprei come spiegarvelo ed è leggermente più aperto rispetto al solito. Invece poi abbiamo nel file di gioco questo questo file ancora ovviamente sarà una fase del punto 0 dove praticamente gli mancherà completamente un pezzo di sfera se vogliamo dire così e poi avremo qua sopra qua sopra noi teoricamente dovremo avere questa quella parte sopra del punto 0 dove Jonesy nel trailer si va ad inserire appunto che crea questa voragine a conto pare mancheranno anche queste parti quindi troveremo forse un punto 0 veramente distrutto a fine di stagione. E tra l'altro ci sono anche moltissime novità andiamo ragazzi anche questa foto qua questa qui è la foto che risale al 2 dicembre 2020 quindi dato in cui state rilasciate il capitolo 2 stagione 5 quindi inizio season per intenderci e new quindi adesso adesso ragazzi come potete vedere il punto 0 è completamente diverso vedete come vi dicevo prima è molto più spaccato ma soprattutto in mente queste onde alcuni streamers ovviamente come vedete oppure come youtubers stanno facendo delle live dove stanno andando a vedere a monitorare il tutte le varie cose del punto 0 e a quanto pare ogni 15 minuti il punto 0 emette una radiazione tra virgolette quindi un impulso se noi andiamo a sentirlo anche da vicino potremo andare a vedere che proprio si sentono questi impulsi tra l'altro di sotto si sentono una dei suoni si sentono di sottofondo che sono inerenti a punto 0. Andiamo invece poi a parlare del playstation plus che in realtà è molto molto più carino secondo me come playstation plus molto uguale al set quello che hanno fatto in collaborazione con le skin blue ma adesso non mi sta avvenendo il nome torn se non sbaglio si si dovrebbe essere torn e ci sta come vedete tutte tutti questi standard di emoticon saranno strettamente sicuramente li collegati al alla skin che uscirà in futuro perché sicuramente questa questa che state vedendo non sarà una semplice emoticon ma sicuramente sarà qualche cosa regata a una skin che uscirà sempre con playstation plus abbiamo poi ragazzi la mitraglietta scusate abbiamo la mitraglietta raffica che è tornata in magazzino al posto della pistola pesante come avevamo detto già ieri a quanto pare ogni settimana vanno a modificare qualche armi a causa del punto 0 e a quanto pare quindi allora a sto punto anche la prossima settimana ancora rilasceranno una nuova arma a posto della mitraglietta raffica sappiate però che non è la mitraglietta raffica questa qua bianca c'è stato un errore nelle immagini ma è la mitraglietta raffica quella nera con delle scaglie arancioni che sarebbe la mitraglietta quella che si utilizzava che utilizzava negli scagnozzi ai tempi della season 2 capitolo 2 non so se vi ricordate comunque è una mitraglietta che è simile a questa però anziché spara 3 colpi spara colpi più veloci ma soprattutto ha un caricatore meno esteso quindi da 20 colpi anziché da 30 circa poi ragazzi nei file di gioco è tornato leg launcher quindi il lancia uova di pasqua che è stato raggiunto ai file di gioco sicuramente non sarà per un evento odierno quindi di queste settimane sicuramente ma l'avranno raggiunto sicuramente poi ad aprile marzo per fare qualche evento di pasqua ormai penso in season 6 non avrebbe più senso farlo l'hanno aggiunto tra l'altro di tutta la rarità tra quella verde appunto che stiamo vedendo adesso fino a quella leggendaria e non in rarità comune ovviamente potrebbero cambiare le cose quindi non è detto che sia di nuovo così e poi abbiamo delle icone che sono state trovate nella modalità creativa abbiamo queste icone che sono variety, non si capisce, pratic e combat allora magari le ultime due potrebbero essere più comprensibili perché ci dicono appunto pratic magari in qualche modo una specie di isola provvisoria dove provare cose e combat magari un'isola appunto dove è effettiva, reale, è perfetta e dove ci si può combattere, si può fare magari in una fase non provvisoria non lo so onestamente chissà che cosa succederà comunque ragazzi per ritornare al discorso del punto 0 sappiamo perfettamente che il punto 0 come vi dicevo prima è stare mettendo queste scariche ogni tot secondi, ogni tot minuti no, mi sembra ogni un quarto d'ora circa ok ragazzi scusate mi stavo parlando c'è stato un problema comunque vi stavo dicendo ogni 15 minuti, adesso non lo so perfettamente avremo un mini evento in questo caso, in questa season a quanto pare nel file di gioco sono stati trovati dei suoni e delle robe inerenti alla season 9 quindi dei suoni del punto 0 della season 9 sapete che alla fine della season 9, alla fine dell'evento c'era il punto 0 che stava per esplodere e quindi faceva dei certi suoni a quanto pare saranno molto simili ai suoni che ci saranno qui e comunque le foto che vi ho fatto vedere prima per chi se le fosse appunto dimenticate questa ad esempio oppure no oppure questa qua probabilmente piano piano il punto 0 non dico che comincerà a esplodere in qualche modo cominceranno a bancare dei pezzi sicuramente il radius che vediamo adesso quindi di questa di questa amplificazione di questa roba insomma ecco questa qui appunto probabilmente comincerà a sfasare diventerà un punto 0 forse una palla di energia e piuttosto tutti questi pezzettini man mano andranno a cadere ma soprattutto avremo sicuramente in questa season un countdown perché è stato trovato nel fall di gioco avremo un countdown non si sa di cosa logicamente ma avremo un countdown quindi qua già ci fa sperare ma non abbiamo un evento ben definito non sappiamo che cosa ci sia e quindi molto probabilmente non avremo niente vi ripeto che nelle prossime settimane magari si potrà scoprire qualcosa di più oppure magari l'epigames questa season l'ha fatto apposta ha detto no non facciamo spoilerare niente magari però mi sembra strano perché comunque sappiamo che avrà delle fasi e quanto pare non ci sarà un evento ben stabilito in questa season ma avremo tanti piccoli eventi del punto 0 che caratterizzeranno poi la season 6 in qualche modo quindi non si sa ragazzi non si sa cosa accadrà sappiamo che ci sono questi mini eventi non parlo degli eventi di un quarto d'ora come quello ogni quarto d'ora come quello che vi dicevo prima ma proprio eventi veri e propri che durano poco e che quindi non sono non sono molto rilevanti ma ovviamente ci entreranno molto con la storyline comunque ragazzi speriamo che questo video vi sia piaciuto diciamo che questo forse è un video effettivo della patch era da tanto tempo che non ne facevo uno comunque ragazzi speriamo che questo video vi sia piaciuto vediamo che cosa accadrà a questo punto 0 vedremo nelle prossime settimane ovviamente se saprò qualcosa immediatamente farò il video ovviamente vi dico sempre che non farò mai spoiler ovviamente quindi tranquilli insomma sotto questo punto di vista e niente ragazzi noi ci vediamo a un prossimo video grazie a tutti